Questa è la serie B-Win. Papeo Maroso, giocatore prima, allenatore e dirigente poi della squadra Lombarda. Signor Roca dà il via alla partita. Tripoli, la palla lunga, attenzione all'uscita, sbagliata del portiere, va a terra Martinetti. Vediamo il provvedimento, calcio di rigore anche con l'espulsione di Cosenza, davvero molto, molto, molto ingenua. Corsa di Ebagua, tiro parata di Valentini, attenzione Tripoli. Casoli finisce la sua partita dopo soli quattro minuti, una sostituzione chiaramente dettata da esigenze tattiche. Torna Sini, Bressan, sinistro, certa direttamente la porta. Ancora Nadarevic, spasso, dalle retrovie per il tiro, altissimo. Attenzione però al Varese con Martinetti verso Nadarevic. Ebagua va al centro dell'area, Valentini di pugno. Il lancio lungo, attenzione a Tripoli, passa davanti a Scaglia, riesce a controllare il pallone, doppio passo di Tripoli, si accentra il destro. Nadarevic lo tiene in campo con la finezza, poi Grillo verso Ebagua. Grillo arriva per un soffio, Valentini si distende. Genuto all'indietro per Edamonte in area. Colpo di testa di Martinetti. Nadarevic in area, Valentini gli chiude lo specchio, il pallone dall'altra parte, sinistro. Salvataggio da parte di Masi, davanti alla porta, ha provato Tripoli. Attenzione a Nadarevic. Ancora Cancellotti sulla sinistra, classe in mezzo, Ebagua-Rete! Con il petto, Ebagua va a raddoppiare per il Varese. Attenzione, palla in area, prova di piazza, contrato. Attenzione, lancio lungo per Di piazza, riesce a controllare, si porta nei pressi, l'area di rigore, secondo pale, poi è Mello. Si mangia il possibile 2-1. Arriva il fischio con qualche secondo di anticipo da parte del signor Roca di Foggia. Vince il Varese per due rete a zero con i gol di Nadarevic al 45esimo del primo tempo, al 20esimo della ripresa, ha raddoppiato Ebagua. Grazie a tutti.